Nella manovra di bilancio del Governo è spuntata la proroga della mobilità in deroga con importanti novità. Potranno ottenere fino a un massimo di 12 mesi anche quei lavoratori che hanno cessato il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga per il periodo 1 dicembre 2017-31 dicembre 2018 e contestualmente non hanno diritto alla fruizione della NASPI a condizione che siano loro applicate misure di politica attiva. Nel decreto emergenze è anche stata reintrodotta per gli anni 2019-2020 la cassa integrazione straordinaria per cessazione fino a 12 mesi nel caso in cui siano presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel limite temporale di 24 mesi o per crisi aziendale fino a 6 mesi nel caso in cui il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi. Ma entriamo nel dettaglio. Alcuni interventi della manovra sono dedicati al sostegno del reddito in deroga sia in merito alla cassa integrazione straordinaria che alla mobilità nell'ambito delle cosiddette aree di crisi complessa. Per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa come quella di Anagni Frosinone riconosciute nel periodo dell'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017 che cessano il programma dei CIGS nel periodo dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria fino al limite massimo di 12 mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 in deroga ai limiti di durata massima alle stesse aree di crisi industriale complessa riconosciute nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017 può essere concesso non oltre sempre il 31 dicembre 2018 un trattamento di mobilità in deroga della durata massima di 12 mesi a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018 bisogna però sottolineare che gli interventi su cassa integrazione straordinaria e mobilità in deroga sono finanziati a fronte di un onere non superiore a 34 milioni di euro per l'anno 2018 per la concessione della provvidenza le imprese dovranno stipulare un accordo presso il ministero del lavoro presentare un piano di recupero occupazionale e procedere alla dichiarazione della non ricorrenza delle condizioni per la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria la manovra ha introdotto anche alcune disposizioni volte a facilitare l'esodo anticipato dei lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti di pensionamento la legge di bilancio prevede che limitatamente al 2018-2020 il periodo minimo di accesso ai requisiti di 4 anni sia elevato a 7 anni queste le principali novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali queste le principali novità introdotte in materia di ammortizzatori sociali dalla legge di bilancio grazie a tutti grazie a tutti